E' sempre domenica 12 novembre, grazie ancora a tutti i ragazzi che hanno partecipato stamattina allo stage di Rivignano adesso sono diretto a Ferrara, inizio lezione alle 16, sono le 15 e manca poco ma questo è un messaggio di ringraziamento per tutti voi, per tutti i fan sia albanesi che italiani per i messaggi, bellissimi messaggi che mi avete lasciato sull'ultimo post dove mi vedono come uno dei, uno dei, non l'unico, ci mancherebbe altro uno dei conduttori di Sanremo Albania, del 62esimo festival della canzone albanese grazie ancora e ci vediamo a dicembre ovviamente questo è un video per, insomma, dove vivo, in Italia perché il post è tutto in albanese, giustamente tanti mi dicevano non abbiamo capito niente, è solo la parola festival un abbraccio, a presto